Alla scoperta dei candidati al Consiglio regionale pugliese. Siamo con Vincenzo, detto Enzo Di Gregorio, che è candidato al Consiglio regionale pugliese con il Partito Democratico. Intanto cerchiamo di sapere, ma veramente tutti lo sanno, chi è Enzo Di Gregorio, ricordiamolo che è consigliere comunale di Taranto e vogliamo capire meglio perché si candida alla regione. C'è il suo slogan che è abbastanza indicativo, dalla città alla regione, un passo alla volta. Sì, grazie. Io, come ben sapete, ho iniziato veramente dalla gavetta, dal Consigliere di quartiere nel 1996 e poi sono consigliere comunale in maniera ininterrotta dal 2005. Chiaramente vorrei sfruttare la mia esperienza amministrativa di questi 25 anni al Comune per portare la territorialità in regione e rappresentare meglio Taranto con i suoi problemi, dove ultimamente abbiamo notato i grandissimi problemi legati alla sanità, all'ambiente, per cui una presenza forte di un Tarantino in regione.